È l'Italia che cambia, è l'Italia che pedala Sui sentieri differenti, ecologici e coerenti Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai Quest'Italia che cambia, siamo noi Salve a tutti, ci troviamo nell'Istituto Comprensivo Amendola Guttuso in un luogo che è Ostia Lido Proprio in questa scuola si sta svolgendo da anni ormai un progetto molto all'avanguardia nel campo dell'educazione ad opera dell'Associazione Manes e il progetto dei maestri di strada Noi abbiamo un protocollo di intesa con la scuola Amendola Guttuso e ci vengono segnalati dei ragazzi che diciamo sono in procinto oppure sono in abbandono scolastico nonché anche dei ragazzi che hanno delle problematiche psicologiche oppure sono stati pluribocciati Noi cerchiamo insieme a loro, osservandoli, ascoltandoli di fare anche un po' da tramite con le istituzioni stesse Il progetto maestri di strada dura un anno in un anno ti faccio prendere la terza media e quindi questo piccolo traguardo ci si arriva Però non è quello il nostro obiettivo il nostro obiettivo è comunque riscattare la figura di questi ragazzi Facciamo una specie di consulenza a tutto campo Noi comunque ci relazioniamo con tutti i genitori ammesso con un concesso che ci siano e nello stesso tempo andiamo a casa spesso e volentieri Abbiamo una ragazza che è latitante non c'è problema che sia con i genitori, col padre, con la madre, con le sorelle è giusto per capire perché non vieni, è successo qualche cosa, c'è qualche problema Li mettiamo in contatto con le istituzioni c'è bisogno di andare all'asla, c'è bisogno di andare ai servizi sociali e quindi diventano storie che devi seguire in più anni e non poter continuare a volte ti metti in difficoltà Te stai facendo la tua piccola parte per i ragazzi che conosci, che incontri e quindi presa la terza media la tua piccola parte tecnica è finita però poi inizia, dopo due anni, il fatto che la gente ti saluta per strada ti conoscono tutti, ti accettano vengono a parlare da te quando hanno un problema L'istruzione tradizionale prevede che tu vai dallo studente e dici questa è una cosa vera, è giusta, imparala se la dimentichi il giorno dopo, anche quello bravo quello che facciamo in realtà è molto semplice, noi non siamo due pedagoghi se ti devo insegnare qualcosa ti faccio fare qualcosa di pratico associato a quella cosa disegni il teorema di Pitagora, fai il balletto sui numeri relativi ce ne sono mille di trucchi, alcuni li conoscevamo già e altri ce li inventiamo un ragazzo deve fare qualcosa che si adatta a come è fatto lui di solito è molto meglio se sia pratica, più che astratta chi siamo noi innanzitutto per loro, se sono magari un amico posso essere il fratello maggiore, il padre, che magari qualcuno non ce l'ha quindi capire in quel momento il bisogno suo proprio interiore perché effettivamente solo così poi tu li agganci perché non è certo riportandoli in un'aula, quindi interessa diciamo che il vero optional è la classe perché poi noi stiamo sempre fuori quando vedi che si tirano oggetti contundenti allora quello è il momento che devi uscire fanno tutte queste cose qui perché chiaramente hanno bisogno di attenzione e noi questa gliela diamo a tutti gli effetti queste panchine sono state realizzate dai ragazzi con i quali interagivamo la performance è stata eccezionale le tessere del mosaico sono state messe una per una sempre chiaramente con materiali riciclati stiamo tentando di tracciare la nostra strada per la scuola nel futuro perché qui c'è bisogno quindi puoi tentare qualcosa di nuovo nella scuola normale ti dicono ma noi sappiamo cosa fare non abbiamo bisogno di voi da loro non gliene importa niente di studiare non è vero che lo vengono a chiedere ma quando dicono loro e uno pian piano facendo questo lavoro si rende conto delle cose che li stimolano l'aula la puliscono loro ma questa non è stata una nostra idea la seconda settimana loro hanno preso e hanno pulito l'aula stare addosso è una cosa faticosa è complicata va fatto quando ci sono dei problemi seri il problema non è essere buoni non è che non rimproveriamo i ragazzi ti rimprovero quando c'è un buon motivo l'Italia che cambia è quello che noi vedremo quando i nostri figli andranno a scuola sarà che la gioventù ha cambiato colore adesso noi quello che vediamo è che molti ragazzi stranieri hanno appena iniziato a vivere questo paese lo stanno trainando saranno loro a trainarlo ce la metteremo tutta pure noi insomma è quello che stiamo facendo qui ci proviamo quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai quest'Italia che cambia siamo noi di più tutti i nostri figli andrò ci proviamo ci proviamo